...per il coronavirus, ma è stato un paese che si tratta di valori fondamentali. In Germania la Cassione ha avuto la testa del Consenso, la nuova allenanza di Valle del Silvino, che si tratta di una volta anche l'esterno a testa dell'Artene, e si tratta di una seconda pagina, di una soltà indietro, il nuovo presidente Donas Dierlecch, liberale, è stato decisato un anno di Italia, e quindi tutti i primi anni del partito di Valle del Mar, e tutti i relazioni di tutta la America, protette tutta la Germania, come l'interfattura di comunità, a Berlusconi, a Burgolo, Colonia, Inizia, Monaco, di Baviera. E poi, nel principio di pari, c'è il festival, il festival di San Reno, con edizione, con Aspolti Record, una seconda serata, c'è ancora più alto, il più alto da 1995. Allora, dopo il corso di conferenza stampa, andiamo in diretta dalla nostra Laura Squillacchi. Buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio agli spettatori, 53,3% di Sherr.